Cray Warwick ritratta, sì, Franco mi ha detto che sono schifo, ma ho paura di lui. Le discussioni sull'omofobia all'isola dei famosi sta lentamente prendendo il posto mediatico del Cannagate, che ha imperversato i salotti televisivi di Mezza Mediaset per più di un mese. Le polemiche tra Franco Terlizzi e Craig Warwick sui presunti insulti a sfondo omofobo sembravano essersi placate lunedì scorso, quando i due, dopo essersi scontrati in diretta, erano giunti ad un accordo, fra intendimenti dovuti a problemi linguistici ed antipatie pregresse sarebbero stati alle base di insulti e piccole ripicche, che nulla parevano avere a che fare con orientamento sessuale del sensitivo. Oggi, durante il talk di Domenica Live, Craig Warwick è intervenuto in collegamento insieme alla giornalista Monica Setta e ha ritrattato in parte quanto affermato appena una settimana fa. Secondo le parole del sensitivo, Franco avrebbe pronunciato la parola schifoso proprio in relazione al proprio orientamento sessuale, non in un altro contesto. Motivo della smentita si celerebbe nella paura, che Craig percepirebbe nei confronti di Franco. Paura di cosa, è stata la domanda da studio, rimasta insoluta?